Come si inviano Bitcoin da un tuo portafoglio, un tuo exchange, da Coinbase a un exchange, a un altro portafoglio? Alcoin Investor 69 Facciamoli in pochi clic, guardo ho appena comprato 240 dollari in Bitcoin e quindi li voglio inviare, eccoli qua Li voglio inviare al mio portafoglio su Bittrex che vedremo più avanti Che è un exchange perché voglio comprare nuovi Stellar Lumens, ovvero voglio comprare un nuovo coin Come si fa? Te lo faccio vedere subito, guarda innanzitutto io mi copio esattamente l'importo che ho appena acquistato Perché voglio proprio investire 200 dollari Vado sul mio conto e clicco nel portafoglio Bitcoin, invia Qui devi inserire il tuo indirizzo Bitcoin e andiamo a vedere come prenderlo Puoi inviare il massimo, cioè tutti i Bitcoin che adesso ho qua sul Coinbase, circa 1000 dollari Io invece penso di investire all'incirca, ricordati di mettere i numeri con il punto, 244 dollari Nel frattempo i 240 dollari, ho preso un momento buono nel quale il Bitcoin stava in rialzo Sono anche aumentati di 4 dollari, ben venga perché mi dovrò pagare le spese di commissione Che sono circa 14 dollari solo per inviarli Bene, come si fa a vedere l'indirizzo del Bitcoin? Stai attento tra l'altro, in questo portafoglio, in questo indirizzo Bitcoin Devi inserire sempre e solo un indirizzo Bitcoin Cosa succede se inserisci un indirizzo sbagliato o un indirizzo non Bitcoin? Succede che i tuoi soldi potrebbero andare persi Quindi fai attenzione Bittrex lo affronteremo più avanti, sempre su questo canale Ti farò vedere passo passo come funziona Adesso devo andare a prendere il mio indirizzo del wallet, del portafoglio Bitcoin Sarebbe il mio IBAN, detto proprio terra terra Per farti capire qua su Bittrex, su questa piattaforma exchange Quindi clicco su più perché voglio depositare Bitcoin nel mio portafoglio Bitcoin in Bittrex In questo exchange, in questo scambio Clicco su più e adesso sta scaricando il mio indirizzo Questo è il mio indirizzo Bitcoin su Bittrex Quindi se vuoi fare una donazione manda pure, sono ben contento Che cosa ci dice Bittrex? Ci dice guarda che depositando i tokens a questo indirizzo Cioè i gettoni, i tuoi Bitcoin a questo indirizzo Sei d'accordo con la nostra deposit policy Spedendo, depositando i gettoni a questo indirizzo Diversi, vedi dai Bitcoin, anche Bitcoin Cash Quindi sta attenzione Potrebbe risultare, potrebbe risultare con la perdita dei tuoi fondi Cioè dei tuoi soldi Quindi se io adesso da Coinbase sto spedendo 244 dollari a questo indirizzo Se spedisco 244 dollari non in Bitcoin ma in altre valute potrei perderle Quindi copiamolo Tasto destro, copia Assicuriamoci che sia veramente questo Quindi riclicchiamo sul più di Bitcoin Siamo sicuri che abbiamo cliccato su Bitcoin Cioè lo ricopiamo di nuovo Eccolo qua Andiamo sul nostro portafoglio Bittrex Stiamo inviando BTC E qui controlla sempre che è BTC Ok, corrisponde la valuta Benissimo Spediamo questi 244 dollari famosi a questo indirizzo Guarda le commissioni di rete Per questo che secondo me il Bitcoin Prima o poi o diventa veramente l'oro digitale Il platino digitale Oppure collassa Perché non si può spendere 14 euro E 83 centesimi di dollari Per trasferire 44 euro Praticamente mi rimangono 230 euro Vabbè, spediamo tutto Ok, a questo punto devi mettere il codice di verifica in due fasi Se hai problemi per come funziona Me lo dici Perché ti spiego come attivarlo anche sul tuo conto Coinbase Clicca con conferma Perfetto La transazione è in corso Abbiamo inviato la nostra cifra in Bitcoin Quindi abbiamo pagato in Bitcoin In questo caso ho travasato Ho trasferito i miei fondi in Bitcoin Per i quali voglio fare un investimento In questa valuta spettacolare Stellar Lumens Ne ho già abbastanza Ma penso che nei prossimi giorni Anche se adesso sta calando Benvenga Penso che nei prossimi giorni Possa veramente aumentare Perché guardando un po' i grafici Studiando un po' le candele Secondo me ha molte probabilità di aumentare E quindi penso che ci investirò ulteriori 200 e passa dollari Su questi Stellar Lumens Vedremo più avanti se avrò predetto nella maniera corretta Oppure no Bene, la transazione è in corso E per questo ti dico Il Bitcoin secondo me ci mette veramente tardi Perché guarda Ci mette in genere un'ora Un'ora e quaranta Anche un'ora e cinquanta Per trasferire pochi spiccioli Pochi spiccioli La fine è 259 dollari Che nel frattempo sono lievitati Per i 14 dollari di commissioni purtroppo Questo è l'indirizzo del destinatario MGXM Che dovrebbe combaciare MGXM Scritti veramente molto piccoli In attesa Se clicchi visualizza transazione Andiamo su Live Block Cipher Che cos'è questo? È registro pubblico di tutte le transazioni dei Bitcoin E affinché il wallet dall'altra parte Bitcoin Quindi la piattaforma Bitrex Accetti i miei fondi, i miei soldi In genere Bitrex dopo la seconda o terza conferma Da parte della rete Bitcoin Trasferisce i soldi Alcuni exchange un po' più prudenti Aspettano tutte e sei le conferme E adesso in bocca al lupo Perché ci vorrà almeno un'ora Un'ora e mezza Per trasferire questi soldi Ti parlo dal futuro Dopo 35 minuti Abbiamo raggiunto 5 conferme su 6 Andiamo a controllare il nostro Portafoglio Bitrex Aggiorniamo E forse Forse Ti dico forse Dovremmo aver ricevuto I nostri Bitcoin Dove sono? Eccoli qua Perfetto Sono giunti a destinazione E ci hanno messo In questo caso 35 minuti Quindi è andato abbastanza bene Poteva andare peggio A volte ho aspettato anche un'ora e cinquanta Quindi Bitcoin bellissimo Bitcoin altissimo Bitcoin diffusissimo Ma nella pratica Come mezzo di pagamento A meno che con il Lightning Quindi la nuova tecnologia Che forse verrà sviluppata Dai pochi sviluppatori del Bitcoin Secondo me Non è pratico Ecco Ce ne sono molte altre Di valute interessanti Io andrò a investire In questi Stellar Lumens Che intanto Stanno calando Un po' altalenate Non vedo l'ora Che arrivano questi 200 e passa dollari Per investirli In Bittrex In Stellar Lumens Ok Abbiamo visto Come si trasferiscono I tuoi fondi Da Coinbase Quindi da La piattaforma Dove consiglio di comprare I Bitcoin Perché è molto semplice E intuitiva E nonostante le commissioni Alte di rete Di Bitcoin Per pagare i miners Comunque Con Coinbase Ha delle tariffe Abbastanza contenute Secondo me Le migliori del mercato Inoltre Al tuo primo acquisto Di 100€ Con il link di invito Che ti metto sotto Riceverai ulteriori 10€ bonus Che non fanno mai male Così parti con 110€ Almeno con 110€ Benissimo Abbiamo visto Come trasferire i soldi Se hai Quindi I Bitcoin Se hai Qualsiasi domanda Qualsiasi difficoltà Fammi sapere Sotto nei commenti Se ti è stato utile Pollice all'insù Iscriviti anche al nuovo canale Altcoin Investor Powered by Video Ripetizioni E Joomla Power Pro Perché sto portando avanti Anche questo altro progetto Che mi appassiona molto E in pochi giorni Già 39 iscritti In due giorni addirittura Già 39 iscritti Che è un buon inizio Certo Prima di arrivare A 18.000 Quasi di video ripetizioni Ce ne vorrà Di tempo Di acqua sotto i ponti Però è un progetto Che portiamo avanti Piano piano E piano piano Andremo a vedere Anche altri exchange Anche altre criptovalute Non solo Bitcoin Ethereum O gli altri Ma guarda qua Quante ce ne sono E quante ce ne sono Di interessanti Di veramente interessanti Ti dirò i miei preferiti Ci confronteremo E andremo avanti Un saluto Da Altcoin Investor 69 Altcoin Investor 69